Benvenuti a tutti amici SoftGunner, io sono Manuel Ovici in nome di battaglia Boot Allora, con questo video apro definitivamente il mio canale riguardante il Softair Allora, in questo canale io farò recensioni del mio setup e recensioni di altre repliche e altri vari setup Inoltre farò video di giocate mie e della mia squadra e farò video anche durante le fiere, ad esempio quella di Ferrara che c'è ogni anno Come quella di San Lazzaro e da tante altre fiere in tutta Italia Farò video anche con alcuni youtuber di un certo livello, ad esempio Rico Softair che avete il canale in descrizione che lo saluto molto E niente, io con questo video apro il mio canale definitivamente Ci vediamo la prossima settimana, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.